Dove mi devo mettere adesso? Dove? Matteo! 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 Anzi, abbiamo incontrato i litori del Sanno, i lavoratori del Sanno. Qua c'è una rappresentanza dei mani tanti lavoratori del Sanno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che se qua ci fosse qualcuno di cui voi non condividete l'idea, voi non sareste qua ma sareste a casa o a lavorare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.